Musica Guardia di finanza, piano controlli estivo concluso, bilancio positivo per il generale Toschi. Padula, oggi con cresso dal titolo Evoluzioni della chirurgia oncologica nel terzo millennio, approcci e tecniche sempre più all'avanguardia. Sala Consilina, in consiglio, approvate richieste di finanziamento per impianto a biomassa e museo dell'alimentazione. Sansa, da ieri, attiva la consulta del commercio. Sala Consilina, giornate europee del patrimonio, ne parla l'assessore Gelsomina Lombardi. Buonasera e ben ritrovati alle notizie di Uno News. 21.000 operazioni condotte dalla Guardia di finanza nell'ambito del piano di controlli estivi partito lo scorso luglio. Molti controlli e le violazioni riscontrate, ha fermato il comandante della Guardia di finanza, il generale Giorgio Toschi. Con la stagione fredda, la Guardia di finanza continuerà ad assicurare la sua opera di prevenzione e repressione da tutti gli illeciti. Per i particolari sentiamo Giuseppe Opromolla. 350 operazioni al giorno a favore del turismo e a difesa dell'estate, per un totale di 21.000 operazioni. 950 venditori abusivi individuati, scoperto uno stabilimento balneare pericolosamente ricavato nell'alveo di un torrente. 700 ai casi di affitti in nero, tra cui una villa di lusso con piscina. 3.000 ai lavoratori regolari, di cui 37 acinellatori di grappoli d'uva impiegati da caporali in agricoltura. Sequestrati e tolti dal mercato, 22 milioni di prodotti contraffatti, tra le quali bevande vendute da ambulanti, anche a prezzi 5 volte superiori a quelli di mercato. 1.500 soggetti identificati nell'ambito dei controlli sui moni transfer. Sono i numeri del piano dei controlli estivi a tutela delle imprese e consumatori messo in campo dalla Guardia di Finanza. Il piano straordinario, partito lo scorso luglio, è stato così commentato dal generale Giorgio Toschi, comandante della Guardia di Finanza. Molti controlli e le violazioni riscontrate, ha affermato. Sono state eseguite azioni e attività per sostenere l'economia sana del Paese, spesso compromessa da subito le forme di concorrenza sleale. I dati di miglioramento di settore dimostrano che siamo sulla strada giusta. Con la stagione fredda, giunge Toschi, la Guardia di Finanza continuerà ad assicurare la sua opera di prevenzione e di repressione degli illeciti che danneggiano l'economia legale, sia con indagini di polizia economica e finanziaria complesse e articolate nei confronti di fenomeni criminali più rilevanti, sia con controlli di tutti i giorni rivolti a manifestazioni diffuse di illegalità. E restiamo sempre sulla pagina di Cronaca. Un incidente è avvenuto questa mattina a Giungano sulla strada provinciale 137. Per motivi ancora in corso di accertamento, un operaio di 25 anni di Capaccio Pestum è stato investito da un autocarro mentre era intento a sistemare la segnaletica semaforica mobile nel cantiere San Giuseppe. Il giovane, per via delle numerose ferite riportate, è stato poi trasferito dai sanitari all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri di Agropoli. Oggi a Padula, invece cambiamo argomento, si è tenuto il congresso regionale dal nome Evoluzioni della chirurgia oncologica nel terzo millennio, preseduto dal dottor Massimo Di Palma, chirurgo presso il presidio ospedaliero di Polla. Diverse le sessioni di studio, dal tumore alla tiroide a quello della mammella, all'epato, carcinoma, alle neoprasie rettali avanzate. Ma per i particolari sentiamo il servizio. Evoluzioni della chirurgia oncologica nel terzo millennio è il titolo del convegno regionale dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, preseduto dal dottor Massimo Di Palma, direttore di Unità Operativa di Chirurgia Generale del presidio ospedaliero di Polla, che ha avuto luogo oggi nella nuova aula delle conferenze nella corte esterna della Certosa di San Lorenzo a Padula. L'oncologia, nuove tecniche di approccio alla patologia e discussioni suddivise in diverse sessioni di studio hanno tenuto impegnati tantissimi medici provenienti da tutta la campagna, che per l'occasione hanno potuto visitare anche il settecentesco monumento Certosino. Dopo i saluti introduttivi affidati tra gli altri al direttore del presidio ospedaliero pollese Luigi Mandia, a Sergio Annunziata, presidente della conferenza dei sindaci Vallo di Diano Alburni e a Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano Alburni, nella prima sessione presieduta dal dottor Maurizio De Palma si è discusso dei tumori della tiroide. Nella seconda sessione, presidente Giuseppe Paolo Ferulano, invece la discussione si è spostata sui tumori della mammella. La terza sessione, presieduta dal direttore Guido De Sena, ha affrontato l'epatocarcinoma. Nella quarta, presiedere il dottor Gennaro Rispoli, tema al centro della discussione, le neoplasie rettali avanzate. Nel pomeriggio è in programma la sessione video e poi la sessione infermieri con le best practice delle stomie digestive. Il dottor Massimo Di Palma si è soffermato sulla giornata. Sicuramente ci sono stati degli sviluppi enormi negli ultimi anni, sia per quanto riguarda la diagnosi precoce dei tumori, ma anche e soprattutto per la terapia. La chirurgia oramai, a parte quella tradizionale, con l'apertura dell'addome, c'è la laparoscopica e poi la robotica. Chiaramente i risultati sono notevolmente migliori, sia per quanto riguarda la sopravvivenza, sia per quanto riguarda l'abbassamento della percentuale di complicanze. L'approccio migliore è affidarsi a un centro di riferimento dove si può seguire tutto l'iter diagnostico-terapeutico. Per quanto riguarda invece il nostro ospedale a Polla, quindi quali cure si seguono? Insomma, come va seguito questo paziente? Noi, innanzitutto, si può iniziare una diagnosi precoce con il servizio di endoscopia dell'ospedale di Polla. Poi c'è il servizio di endoscopia patologica per l'esame proprio del reperto e nell'atto aziendale è previsto l'oncologo a Sant'Arsenio, per cui potremmo iniziare un discorso che potrebbe anche rientrare nell'organizzazione della rete oncologica regionale. Quindi, prevedendo un approccio diretto all'ospedale di Polla con la diagnosi e eventualmente la terapia seguendo dei protocolli e cercando soprattutto di evitare la migrazione sanitaria nelle regioni vicine. Mercoledì, nell'ambito del Consiglio Comunale a Sala Consilina, si è discusso tra gli altri argomenti del PSR 2014-2020 e perciò delle richieste di finanziamento per la realizzazione di un piccolo impianto a biomassa per impianti sportivi e di alcune idee relative alla valorizzazione di Palazzo Fiordelisi, tra le quali anche l'istituzione di un museo dell'alimentazione. Sentiamo il servizio. Promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale ed agroalimentare del Vallo di Viano, Alburni e Cilento attraverso la realizzazione del Museo dell'Alimentazione e della Biodiversità a Cibo. Attraverso il PSR 2014-2020 è uno degli argomenti di discussione dell'ultimo Consiglio Comunale di Sala Consilina. Ma la discussione si è incentrata anche sul progetto di realizzazione dell'impianto di cogerazione a biomassa per impianti sportivi e plesso scolastico Giovanni Camera. Una richiesta di finanziamenti che dovrebbero giungere anche per il progetto di riqualificazione e miglioramento energetico del Museo Civico Comunale. Per il Sindaco Cavallone si tratta di dare impulso nuovo alla cittadinanza dopo la richiesta di finanziamento in sinergia coi comuni di Atena, Polla e Buonabitacolo per il centro di aggregazione giovanile e il centro per anziani. Ieri in Consiglio Comunale sono state approvate altre richieste di finanziamento che è quella una piccola centrale di biomassa che stiamo parlando delle misure di una caldaia a pellet di un appartamento che verrà allocata sopra gli impianti sportivi per dare fonti energetiche alternative sia agli impianti sportivi che al plesso scolastico Giovanni Camera. E poi quello che per noi sarà un motivo di grosso vando e soprattutto di prospettiva futura la destinazione del nostro Palazzo Fior di Lisi. Eppure ci sono tante altre novità per implementare il progetto relativo allo storico e celebre Palazzo Fior di Lisi e dargli ampio respiro attraverso anche l'avvio e la realizzazione concreta di una serie di idee. Allora ci si è concentrati sulla richiesta di finanziamento di circa 200 mila euro per l'allestimento di un museo dell'alimentazione e della biodiversità molto originale nel suo genere. Per questo palazzo, uno dei simboli della città di Sala Consilina sono stati fatti lavori per circa 2 milioni di euro. Abbiamo fatto la richiesta di finanziamento per circa 200 mila euro per la creazione di un museo dell'alimentazione e della biodiversità. Credo che sarà molto importante perché questo è un'opera molto originale che sicuramente attrarrà parecchie persone a Sala Consilina. Noi abbiamo anche intenzione di implementare il nostro progetto attraverso anche una scuola di cucina con una seconda misura proprio per dare una destinazione unica a questo nostro immobili che abbiamo acquistato e su cui sono stati fatti lavori per circa 2 milioni di euro. Un altro argomento, perché io credo che sia giusto collaborare nell'ambito territoriale, abbiamo dato anche il partenariato al Comune di Atena per la ristrutturazione e il completamento del Museo Civico Comunale. A Caselle in Piccari la minoranza attacca la maggioranza chiedendo le dimissioni del gruppo capeggiato da Maurizio Tancredi. I motivi vengono spiegati in una nota stampa emessa a seguito della revoca dell'incarico di responsabile finanziario a Grazia Salamone. Sentiamo Anna Maria Cava. Lo scorso 13 settembre il sindaco di Caselle in Pittari, Maurizio Tancredi, firma il decreto di revoca dell'incarico di responsabile finanziario del Comune alla dottoressa Grazia Salamone. Una decisione sopraggiunta, secondo quanto si legge sull'atto, per la volontà di effettuare una riorganizzazione uffici e servizi e per una modifica della dotazione organica, come da schema approvato con delibera di giunta del 5 settembre. Una decisione che a parere della minoranza consigliare sarebbe invece dovuta per tentare di coprire strategie politiche sbagliate che, sempre secondo quanto scritto in una nota stampa dal gruppo Movimento Caselle Domani, avrebbero prodotto di fatto il dissesto economico finanziario dell'ente. Nel dettaglio sul decreto si fa riferimento ad una delibera di giunta datata 28 marzo 2017, in cui si approva un nuovo schema per la programmazione triennale del fabbisogno del personale. Una decisione che andava, come specificato nella delibera numero 14 2017, pubblicata sull'albero pretorio in data 29 marzo, nella direzione di una ottimizzazione delle risorse e dei servizi, compatibilmente con la situazione economica dell'ente. Nella delibera si ipotizzava anche il ricorso a figure da assumere a tempo determinato o con apposite convenzioni nei limiti previsti dalla legge. Successivamente, con delibera del 5 settembre, si è provveduto ad esplicitare con apposito schema l'organigramma e il funzionigramma in via di definizione, una delibera che aveva raccolto il parere favorevole anche del responsabile del settore tecnico, Michele Salamone, e del settore amministrativo contabile, la stessa Grazia Salamone. Il 20 settembre il decreto avrebbe quindi dato il via alle modifiche già preventivamente approvate con la revoca dell'incarico alla stessa Grazia Salamone. Una decisione che per il gruppo di minoranza sarebbe invece giunta a seguito del Consiglio Comunale del 5 agosto, quando si è discusso in assise variazioni, assestamento e verifica degli equilibri di bilancio. Secondo i consiglieri di opposizione Silvio Fiscina, Bruno Speranza e Michele Germano, quando si trattano temi di carattere economico-finanziario, emergerebbe da un po' di tempo una notevole e grave incapacità di gestione amministrativa. I consiglieri nella nota stampa lanciano accuse decisamente gravi come la scomparsa di delibere oppure la supposta presenza di debiti fuori bilancio. In ultimo, il gruppo chiede le dimissioni all'amministrazione Tancredi anche a causa della crisi idrica di quest'estate per le nauseabonde salazioni provenienti dal depuratore e infine per la richiesta pervenuta da parte del CONSAC del recupero del canano in bolletta. Ieri pomeriggio, nell'Aula Consigliare della Certosa di San Lorenzo a Padula, ha avuto luogo il Consiglio Generale della Comunità Montana a Vallo di Diano. All'ordine del giorno, la vicenda della stazione elettrica di via Pantanelle-Tempa-San Pietro di Montesano sulla Marcellana. Alla luce del provvedimento da parte del Ministero dell'Ambiente che ha così escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto della società Terna, aprendo così alla possibilità di una nuova conferenza dei servizi. All'incontro erano presenti diversi sindaci e consiglieri dei comuni del Vallo di Diano e componenti e rappresentanti del Comitato Nessun Dorma preseduto da Teresa Rotella. Il Consiglio poi all'unanimità ha votato pieno sostegno nel dire no alla stazione Terna. Si è tenuto invece ieri sera a Sanza un incontro pubblico per analizzare la situazione del commercio locale. Per l'occasione è stata approvata e quindi è attiva la consulta del commercio. Ma sentiamo Rosa Romano. A Sanza da ieri sera è ufficialmente attiva la consulta del commercio e nel breve periodo partirà anche l'iniziativa Spendiamo a Sanza un progetto che prevede incentivi al consumo per sostenere il piccolo commercio locale. Si tratta di idee proposte dal consigliere delegato al commercio Antonella Conforto che hanno trovato il pieno appoggio dell'amministrazione comunale. Ieri sera si è tenuto un incontro pubblico per analizzare le problematiche riguardanti il comparto commerciale locale e nell'occasione è stata approvata la consulta. È un organismo consultivo che farà da raccordo tra le esigenze dei commercianti e gli artigiani locali e l'amministrazione comunale. All'incontro erano presenti tanti commercianti, artigiani e imprenditori e tutti hanno convenuto sulla necessità di fare squadra e lavorare ad un progetto complessivo di rilancio del settore. Riteniamo che la nascita della consulta sia un importante strumento di coesione sociale, ha affermato Antonella Conforto, che ci permetterà di varare al più presto un piano di rilancio del commercio. Siamo soddisfatti per la condivisione e le numerose adesioni. Credo che questa potrà certamente essere una buona occasione per rinnovare la collaborazione tra l'amministrazione comunale e le numerose attività locali. E, conclude Conforto, anche l'occasione per creare unità in un momento con difficoltà economiche notevoli. A Sanza ci sono novità anche sul fronte dello sviluppo turistico. Si sta infatti lavorando ad un piano di promozione locale e sempre ieri sera si è proceduto all'aggiornamento del censimento dei posti letto disponibili in previsione di un progetto turistico-culturale che inizierà il prossimo aprile. Prende avvio il servizio Mensa per le scuole dell'infanzia del comune di Montesano sulla Marcellana a darne notizie all'assessore all'istruzione Marzia Maniglia. Sono particolarmente entusiasta di poter comunicare e dichiara che già da lunedì 25 di questo mese prenderà avvio il servizio Mensa in tutti i plessi della scuola dell'infanzia. La nostra proposta è stata positivamente accolta dalla dirigente scolastica che ha così disposto orario pieno per la scuola dell'infanzia. Appena presto quindi sarà possibile per le scuole secondarie partiremo anche lì tempestivamente con il servizio. A breve poi conclude l'assessore Maniglia. Sarà nominata la commissione Mensa per garantire la buona e giusta qualità del servizio. È possibile intanto fanno sapere dall'amministrazione comunale ritirare il librettino per accedere al servizio presso i plessi scolastici o l'ufficio del comune area servizi alla persona. Bene, si conclude qui la prima parte della telegiornale. Ritorniamo subito dopo la pubblicità con il resto della telegiornale e con tutte le altre notizie. Ben ritrovati alla seconda parte del telegiornale di Uno News. Ieri mattina in conferenza stampa è stato presentato il nuovo piano di raccolta rifiuti che sarà attivo nel comune di Fisciano. Un progetto che nella sua realizzazione è stato supportato dalla Banca Montepruno che conferma così la sua vicinanza alle esigenze della comunità in cui opera e alle amministrazioni comunali. Sentiamo. La banca Montepruno sempre più protagonista anche della nuova area di competenza Salerno. In attesa dell'ormai prossima inaugurazione della nuova sede della BCC Montepruno-Fisciano-Roscigno-Laurino fissata per il 9 ottobre alle ore 10 nella centralissima via Settimio-Mobilio la presenza dell'istituto di credito diretto da Michele Albanese è già da tempo una realtà ed un punto fermo. La dimostrazione arriva proprio dal comune di Fisciano che per le sue attività e per migliorare i servizi ai cittadini si affida alla Banca Montepruno ricevendo peraltro l'atteso sostegno che conferma così la vicinanza della struttura bancaria prima di tutto alle esigenze della collettività e della comunità in quanto tale. Ultima azione in ordine di tempo è il sostegno giunto per la realizzazione del nuovo piano di raccolta differenziata a Fisciano. Un piano presentato ieri in conferenza stampa dal sindaco Vincenzo Sessa che ha voluto accanto anche il vice direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, partner e sostenitore del nuovo progetto che punta a migliorare la percentuale di raccolta differenziata nel comune. Piccoli accorgimenti che riguarderanno il conferimento degli abiti usati che saranno raccolti porta a porta, la diminuzione dei conferimenti del secco indifferenziato e soprattutto maggiori accorgimenti della raccolta da effettuare sia presso il campus di Fisciano che un miglioramento del servizio di raccolta all'interno degli stessi edifici. La presenza della Banca Montepruno a fianco delle amministrazioni comunali come già dimostrato per gli altri territori resta confermata anche per la nuova area salernitana in attesa della prossima apertura della diciottesima filiale dell'Istituto di Credito che è nata dal piccolo comune degli Alburni il 14 settembre del 1962. 55 anni anche di difficoltà superate brillantemente dato che è riuscita ad esportare la notorietà del comune di Roscigno ed il modello Banca Montepruno fino alla città di Salerno diventando la BCC più grande della campagna. Domani alle 17.30 presso il Centro Sociale La Cupola di Buon Abitacolo sarà presentato il libro a cura di Mimmo Liva dal titolo Il centro si guarda meglio nella periferia. Interverranno tra gli altri il sindaco di Buon Abitacolo Giancarlo Guercio e di Sanza Vittorio Esposito, l'assessore al turismo e alla cultura di San Pietro Altanagro Antonio Pagliarulo e anche Beniamino Curcio, componente del consiglio direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Riano e Alburni e Olga Manolio, presidente di Ocesano, Teggiano Policasso, Azione Cattolica. Saranno presenti anche gli autori che sono Francesco Saverio Minardi e Galante Teo Oliva. Sempre a proposito di eventi, domani alle 18.00 presso la sede della Torquato Tasso a Sala Consilina, sarà presentato il libro L'uomo che vendeva palloncini dell'autore lucano Enzo D'Andrea. All'incontro interverrà il presidente della Torquato Tasso, Michele Calandrello, il sindaco Francesco Cavallone, la giornalista Maria De Carlo e le conclusioni mentre aggiungeranno dall'autore Enzo D'Andrea. Domenica 24 settembre, invece alle ore 21, presso il bar di San Marco di Teggiano si terrà un incontro con i cittadini per informarli sull'esito della riunione con la Caritas e i delegati. Anche Sala Consilina, a proposito di weekend, a proposito di fini settimana, aderisce alle giornate europee del patrimonio in programma proprio sabato 23 e domenica 24 settembre. È un'importante occasione per poter valorizzare il territorio attraverso l'apertura di importanti e prestigiosi monumenti di altissimo pregio storico, artistico e paesaggistico. Sentiamo per l'occasione l'assessore alla cultura del comune di Sala Consilina, Gelsomina Lombardi. Quest'anno abbiamo voluto aderire a un progetto innanzitutto di rete territoriale del Vallo di Diano attraverso l'associazione Nova Civitas di Padula e abbiamo, grazie alla disponibilità della società Torquato Tasso, potuto aderire con questo importante monumento barocco che si trova a Sala Consilina, grazie alla famiglia Gentilizia Bigotti. È stata un'iniziativa di valorizzazione importante nata appunto dall'assessorato alla cultura ma anche con l'assessorato al turismo con la consigliera Elena Gallo. Quindi sinergicamente abbiamo voluto fare in modo che all'interno della rete del Vallo di Diano Sala Consilina fosse presente e credo con un monumento importante perché è tra i pochi e chiari esempi dell'architettura barocca nel Vallo di Diano addirittura una facciata che possiamo quasi citare e associare al mondo di Bernini quindi un patrimonio veramente importante di questa grande famiglia. Il comune di Montesano sulla Marcellana partecipa alla GEP che sono le giornate europee del patrimonio unitamente alla Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Abbazia di Grotta Ferrata e all'amministrazione comunale della stessa città. Varie le iniziative in programma che avranno luogo tra domani e domenica cioè un'esposizione di documenti d'archivio, di cartoline di Montesano e di libri sul tema le dipendenze dell'abbazia di Grotta Ferrata nel Regno di Napoli in cui sarà illustrato un aspetto poco noto della storia dell'abbazia di San Nilo e cioè il possesso e l'amministrazione di chiese, terreni, siti nel Regno di Napoli e nel Vallo di Diano. Il 23 settembre così sarà presentato il libro Montesano sulla Marcellana e la sua memoria storica a cura di Giuseppe Aromando e Giovanna Falcone. Nel corso della manifestazione i sindaci di Montesano, cioè Giuseppe Rinaldi e di Grotta Ferrata, Luigi e Andreotti firmeranno un patto di amicizia in nome oltre che della collaborazione solidale tra le due comunità nel comune impegno a preservare l'ambiente e il paesaggio che i monaci hanno contribuito a definire con la loro presenza e il loro lavoro nei secoli scorsi, dunque nei secoli passati. Lavorare sul proprio corpo invece attraverso esercizi teatrali si tratta del corso di teatro fitness organizzato dalla cooperativa Cantina delle Arti di Sala Consilina. Sentiamo i dettagli. Una nuova e importante iniziativa è stata messa in campo dalla Cantina delle Arti di Sala Consilina. Si tratta del teatro fitness che punta ad allenare il corpo partendo dalla mente e vede il teatro come la palestra del benessere. Il corso tenuto dal maestro Enzo D'Arco è riservato a tutti gli uomini e donne con età minima di 20 anni non mira alla pratica teatrale per imparare a recitare oppure fare uno spettacolo ma punta a sfruttare le tecniche teatrali ed attraverso le stesse trovare un risvolto positivo nella vita quotidiana partendo dall'esercizio psicofisico. Non si praticheranno i soliti esercizi fisici delle palestre ginniche ma le azioni, gli esercizi saranno innovativi e semplici, divertenti e raffinati, liberatori e riflessivi. Il corso si terrà di mattina o di pomeriggio a seconda del maggior numero di prenotazioni. È un modo, fanno sapere dalla Cantina delle Arti, innovativo e divertente di lavorare su se stessi attraverso esercizi teatrali, espressione, corporea, rilassamento, respirazione, biomeccanica, azioni fisiche e improvvisazioni a carattere ludico creativo. Termina qui l'edizione della sera della telegiornale New News. Vi ricordo il nostro prossimo appuntamento con l'informazione delle 13.45. A voi tutti un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.